Dopo la notizia arrivata lo scorso novembre dell'inserimento di Frigento tra i borghi più belli d'Italia, sabato c'è stata finalmente la consegna ufficiale della bandiera arancione da parte del presidente dell'associazione Fiorello Primi. Grande emozione per il popolo frigentino e soprattutto per il sindaco Carmine Ciullo, che negli anni si è speso affinché arrivasse l'ambito riconoscimento per il suo paese. È davvero una giornata direi di festa per la nostra comunità, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo che ci qualifica, che dà anche lustro al nostro paese e al nostro territorio in generale e siamo davvero orgogliosi, sappiamo anche una grande responsabilità quella di questo riconoscimento e la speranza è di essere all'altezza. È un riconoscimento che è arrivato dopo un lungo ITER? È assolutamente sì, un ITER cominciato nel 2019, insomma ci è voluto tanto lavoro, tanto impegno. Naturalmente il nostro borgo si prestava molto e quindi è il nostro borgo che ha fatto il resto. Come sempre i criteri sono davvero molto rigidi, diciamo che delle prescrizioni sono state fatte, in verità soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione del traffico, dei parcheggi che sicuramente nei prossimi mesi cercheremo di sistemare. E prima del convegno durante il quale c'è stata la consegna della bandiera arancione, all'interno della cattedrale frigentina è andato in scena lo spettacolo diretto che è interpretato dall'attore irpino Angelo Sateriale insieme ai ragazzi del Forum dei Giovani di Frigento. Dal titolo La storia di Frigento in dieci fermate e tre sconvolgimenti, Sateriale ha raccontato l'evoluzione del borgo a partire dagli eventi che hanno segnato la sua memoria. Noi siamo orgogliosi di questo conferimento. Allora innanzitutto noi abbiamo partecipato raffigurando le varie stazioni di questo avvenimento dove all'interno rappresentiamo il passato di Frigento tramite o personaggi storici o vescovi come nel Cato di San Marciano. A conflimento di questa bandiera di uno dei borghi più belli d'Italia diciamo che ci aspettiamo una maggior visibilità verso l'esterno e quindi anche un'affluenza da parte di ragazzi o persone da fuori così da poter movimentare questo paese. Quali sono le prossime cose che avete in programma come Forum dei Giovani per la valorizzazione del vostro territorio? Allora proprio stamattina siamo stati a Padula per ritirare il premio un giorno da Certosino dove abbiamo vinto questo concorso. prossimamente abbiamo il 21 di giugno una festa della musica dove faremo esibire dei giovani DJ del posto e poi più avanti avremo altri avvenimenti che sono ancora top secret.